Cos'è la realtà? Dio, il senso della vita... Non lo so... I viaggi... Un po' di figa! Muschio selvaggio! Il podcast più fico! Luis! Federico! Martì! Oltre a colare! Muschio, microfono, videocamere e luci! Ospiti diversi, sette nuovi amici! 20 minuti, un'ora di argomenti! Isla, imprendibilità, gioco, innere potenza, risate, pianti, rispetto, sincerità e approfondimenti! Siamo negli anni venti! Muschio selvaggio! Gigolo massaggio! Lui non ha mai saputo come Cazin Jerry avesse previsto tutto quel che poi è successo. Non ha mai capito perché se ne andasse in giro col passaporto sempre in tasca, quasi fosse già pronto a spiccare il grande salto. Di una cosa sola era certo, che se gliel'avesse chiesto, il vecchio Jerry avrebbe richiamato in superficie la migliore delle sue espressioni strafottenti. Ha detto una frase da mezzo adulto, tipo, se stavi attento, Ermanno, capivi tutto anche tu. Questa è l'ouverture di Bastogne, che quest'anno compie 25 anni e 15 anni dal giorno nel quale ho letto la graphic novel che è ispirata al romanzo. una roba che quando l'ho letta mi è esplosa in testa come una granata a manico tedesca, un concentrato di punk, di fottuto punk. Oggi abbiamo il grandissimo piacere e onore di avere qui con noi Enrico Brizzi. Buongiorno, benvenuto Enrico, scrittore del romanzo che esce quest'anno con La Primavera Perfetta, edito da Harper & Collins, ultimo suo lavoro. Grazie mille Enrico di essere qui. Grazie a voi, mi hai fatto una presentazione quasi da scrittore serio. All'epoca quando uscì Bastogne nessuno faceva tanti complimenti. Con Jack Frusciante uscito dal gruppo, invece c'è stata una grandissima esplosione. Sto scherzando, sinceramente ho da abbasciarmi i gomiti, come si dice. I miei libri sono stati accolti molto bene, però i critici non erano proprio così entusiasti quanto il pubblico. Come mai? Per la giovane età? Visto col senno di poi, sai in Italia era raro che esordissero persone under 30 e io ero under 20. Assurdo, con Jack Frusciante è uscito dal gruppo. Sì, l'ho scritto l'ultimo anno di liceo, il primo e unico praticamente di università, è uscito che non aveva ancora compiuto 20 anni, per cui da una parte ti rendi conto di un'uscita indipendente come Jack Frusciante che parte da etichetta piccola indipendente in 200 copie e diventa un fenomeno di costume, per cui nel giro di un anno ti trovi a scendere le scale del Virgin Megastore a Parigi sugli Champs-Élysées per l'edizione francese tipo Beyoncé o alla fiera del Libro Mondiale di Tokyo, era qualcosa di assolutamente incredibile, per cui da una parte si sono aperte tante occasioni buone, tra cui quella che più mi stava a cuore di poter fare la mia cosa, poter continuare a scrivere, poter continuare a fare quello che facevo anche gratis per passione prima e dall'altra fatalmente quando si ha visibilità c'è anche chi dice sei uno stronzo, sei un montato, cadrai e io riderò. Ed ecco ancora qua a fare altri libri, a prescindere da tutto. Oh sì, 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 ma insomma non posso lamentarmi, anzi, mi ritengo molto fortunato sinceramente. Beh, hai ragione, insomma, quando hai iniziato a pensare di voler fare veramente lo scrittore? Quali sono stati... Onestamente ignoravo che ai miei tempi, ai nostri tempi, si potesse fare lo scrittore. Cioè, pensavo fosse finita con Dostoievski, eccetera. E intendo dire fare lo scrittore professionista. Io ho iniziato da Lefanzino, ho iniziato da le cose fatte con le fotocopiatrici, la colla e le forbici. Andavo al liceo, c'era il giornalino ufficiale del liceo, che era penoso, del tipo ringraziamo i nostri genitori che hanno fatto tanti sacrifici per noi e i professori che ci mettono tanto impegno, eccetera. Una roba, sembrava il bollettino parrocchiale. E allora abbiamo fatto un contro giornalino per metterci le recensioni dei dischi che ci piacevano, dei libri che ci piacevano, un po' di prese per il culo, satire, sui professori o sugli allievi più pettinati. Come dire, con una scopa infilata in qualche orifizio. Cioè, libertà d'espressione, così ho cominciato. È strano che a un'età così giovine avessi già capito che potessi tirar fuori qualcosa e concretizzarlo, perché magari tantissimi sono dei bravi scrittori e non hanno le palle, diciamo, di far uscire, di stamparlo. Perché la prima stampa, hai detto, erano 200 copie e poi sono diventate milioni. Hai venduto un milione di copie con il primo romanzo. Assurdo. E quando hai deciso di presentarti da questa casa editrice, cosa pensavi che succedesse? Tu pensavi adesso... Volevo impressionare una ragazza. Davvero? Certo, come la maggior parte di quelli che iniziano a suonare la chitarra. Mettivo per il quale gli scienziati cercano il bosone di X. È stato fatto tutto a capo a quello. Perché voglio piacere una ragazza. Cominci perché vuoi fare buona impressione su qualcuno e vuoi dimostrare qualcosa a te stesso. Ma se hai semplicemente il pensiero che esiste la possibilità di farlo è perché hai visto che l'ha fatto qualcun altro prima di te. Cioè i cuccioli imparano copiando i più grandi. E se c'era stato Pier Vittorio Tondelli che aveva scritto altri libertini portando in scena punk marginali di provincia. se poteva essere stato solo concepito oltre che poi pensato, scritto e pubblicato e trasformato in film arancia meccanica. Se ragazzi che avevano 10-15 anni più di me avevano tenuto banco nelle edicole con un periodico come Frigider dove il fumetto, la scrittura, il reportage tutto si incrociava. Voleva dire che tutto era possibile. Possibile. Poi ci provi. L'arte che non si pone limiti. Cioè è come andare in skateboard, non so come dire. Come era quel detto. Vedi qualcun altro che lo fa e ci provi anche tu. Siamo realistici e esigiamo l'impossibile, no? Ottimo! Eh, o no? Ma infatti non ti sei lasciato scoraggiare magari qualche compagno del liceo ti ha mai preso in giro per la decisione all'inizio? Giustamente, perché la prima cosa che ho mandato in giro era un plagio copiato da Blade Runner. L'ho visto al cinema in una di quei pomeriggi per studenti a prezzo politico maratona quattro film essendo mosso appunto dal desiderio di wow, far vedere che facevo qualcosa di fico ma avendo una vita che dal mio punto di vista non era fica tutti gli autori che leggevo dal mio punto di vista erano avventurieri agenti segreti, domatori di bestiame selvaggio spacciatori su grande scala cioè avevano vite dense io andavo al liceo suonavo il basso malissimo in una band sfigata e ero innamorato di una ragazza che non voleva mettersi insieme a me se no avremmo sofferto troppo perché lei era sul punto di partire per l'America e quindi dico cosa racconto e copio una storia altrui e quindi ho mandato in giro questa storia l'ho fatta vedere a questa ragazza e agli amici più stretti che non avevano visto Blade Runner quindi mi ha detto che figata ma come hai fatto a inventarti un universo del genere? Lei l'aveva visto? Eh no, no E infatti ho dovuto portare avanti la balla perché mi ha detto mandalo agli editori e dico certo e l'ho mandato agli editori da quelli enormi di cui avevo i libri in casa dei miei nelle scansie della libreria a unica cosa un po' lungimirante a editori indipendenti che pubblicavano giovani e questa etichetta di Ancona si chiamava Trans Europa aveva appena fatto il primo esperimento di antologie under 25 quindi ho detto io sono under 18 praticamente vado benissimo e finalmente un giorno torno a casa non esistevano i cellulari siamo all'epoca di Garibaldi e Cavour e mia mamma mi dice c'è un editori che ti ha chiamato ti vuole vedere sotto le due torri al centro di Bologna presumo che sia uno scherzo dei miei amici e quindi astutamente faccio il giro in bici da dietro dal ghetto invece che da davanti così li sorprendo invece c'era un editore un uomo enorme me lo ricordo alto come la Garisenda impermeabile da editore gli occhiali le scarpe le scarpe tipo Pippo di Topolino enormi e dico ma è un editore davvero ma allora non è uno scherzo gli vado incontro lui mi dà la mano ci presentiamo io lo guardo dal basso in alto e per un attimo aspetto che mi dica ma hai scritto una gran figata la pubblichiamo partiamo da 15 milioni di copie di tiratura poi facciamo una festa e chiamiamo tutti Andy War o di Rolling Stones Ice-T tutti e il invece mi dice come cazzo ti è venuto in mente di copiare Blade Runner e io sarei sepolto vivo guarda che io ho visto cose che voi umani lui l'aveva vista davvero e sarei morto di vergogna ma in questa umiliazione si è nascosta la salvezza nel senso che mi ha detto cambia prospettiva cioè non copiare il cinema non copiare le vite degli altri racconta la tua e io parto con la mia romanella ma la mia vita è noiosa povero me piccolo e nero pulcino disperato vado al liceo nessuno mi ama eccetera e lui mi ha detto è questo che devi raccontare è questo perché ognuno di noi sa tirar fuori bene le cose che gli stanno a cuore il linguaggio delle scene che conosce davvero non fingere qualcosa che non sei che non sai e quindi per me è stato il ribaltamento di prospettiva da cercare di far finta di essere fico a provare a essere te stesso e basta ha notato una qualità nella scrittura effettivamente forse non mi avrebbe dato appuntamento altrimenti però non è scontato comunque riconoscere il fatto che il tuo punto di vista è solo tuo e vale la pena di essere raccontato proprio perché io non mi immaginavo che quello di cui oggi sono invece pienamente convinto che la vita di ognuno di noi vale la pena di essere raccontata vale la pena di essere raccontata evitando quello che è l'errore classico del narratore esordiente mettere in scena un suo alter ego però più figo senza difetti con le tue cose migliori però le ragazze cadono ai tuoi piedi gli amici ti adorano la gente ti saluta ma la vita reale non è così qualcuno ti adora qualcuno ti tradisce magari te lo puoi scrivere per te stesso in un atto di onanismo forzatissimo però per altri insomma non funziona granché però il jazz è masturbazione e il soul è sesso e a noi interessa il soul cioè fuori metafora tutto quello che c'è di valido nella mia vita è quello che ho in comune con gli altri con gli amici con una persona incontrata in treno in metropolitano una volta non quello che è mio proprio mio col mio codice fiscale che è quello onestamente frega poco a me figurati agli altri quindi tu quando scrivi comunque hai sempre raccontato di tue esperienze attraverso personaggi che che non rispecchiavano al cento per cento in realtà Luis sono sempre esperienze mediate cioè un mix tra magari una storia mia una storia di mio fratello o di un amico che conosco bene sì perché non sapresti raccontarla se non l'avessi effettivamente non sapresti raccontarla cioè se non sai come essere tradito è difficile raccontare il tradimento se non sai com'è tradire e sentirsi magari una merdaccia dopo averlo fatto sarebbe molto difficile raccontarlo poi c'è uno step ulteriore cioè non devi semplicemente prendere la tua vita e metterla in scena sostanzialmente quando capisci che quel sentimento quella situazione è capitata a te a lui a lei a quell'altro al tizio conosciuto una sera in Olanda per caso eccetera allora vuol dire che è universale e quello è il materiale su cui lavorare come nella comicità sì cercare tipo la matrice che influenza gli avvenimenti che succedono un po' a tutti ma mi viene in mente un meccanismo che è quello del rubare alla propria vita il contenuto che ti mostra che è un tratto in comune anche ad Andrea Pazienza il quale gliele hanno dette di ogni quelli che si riuscivano a riconoscere nelle sue vignette perché lui gireva si trovava uno con una faccia buffa e la stereotipava magari con esattamente nella vignetta quello che andava a dire poi quel tipo e tutti a fare oh sì sì la paura di avere voglio i diritti sulla mia immagine questa è secondo me veramente la prova che una storia funziona cioè hai parlato di pazienza a cui io ho dedicato insieme a Tondelli Jack Frusciante il mio primo libro quindi sono diciamo un ammiratore a prova di bomba ma la cosa fantastica è che ci sono in giro in Italia ancora oggi almeno cinque persone diverse di cui quattro perlomeno conosciuto dal vivo che dicono Zanardi sono io sei ispirato a me è capitato anche a me dicono non sono Zanardi se in tanti si ispirano nel mio piccolo è successo anche a me con i miei libri ma qui hai raccontato la mia storia ma quando te lo dicono in quattro, cinque, sei forse hai fatto centro perché tu non stai pensando direttamente a loro di solito ma parla di me sono io soprattutto ma non ti è mai capitato di avere persone attorno a te paranoiche del tuo essere capace di raccontare di osservare più che altro e di raccontare e di stare cauti dal qualcuno che non voleva essere la tua musa esatto come se fossi una videocamera effettivamente tipo che sei capace di carpire informazioni poi da raccontare perché però se è vero quel meccanismo che dici nel quale tu in realtà non è che stai parlando il fatto nello specifico ma tutto tutto l'apparato simbolico che evoca quel fatto quindi prendo una valenza universale una volta che parli del tradimento del miglior amico per dire che è talmente tanto un classico che potrebbe essere successo a tutto il mondo capito? cioè quando vi faccio un esempio ho un fratello ho scritto romanzi la primavera perfetta parla anche del rapporto tra due fratelli non detti rancori che si portano dietro uno è celebre l'altro no uno è più grande si sente defraudato della primogenitura ma non è la storia mia di Enrico Brizzi e di mio fratello Riccardo e lui lo sa benissimo cioè mescoli mille cose parli della fratellanza non della nostra fratellanza per cui in realtà quello che succede succede più il contrario cioè di persone che vengono da me si comportano come se fossero a un casting allora una storia interessantissima se te la dico ci scrivi un libro se te la dico ci scrivi un libro allora eravamo io un ex legionario della legione straniera francese su un cargo battente bandiera liberiana poi sono arrivate delle ragazze bellissime cioè chi è un po' superficiale cerca di mettersi in mostra come quelli che si buttano dentro le foto per esserci anche loro senza capire che non ha non c'è nessuna persona reale che ispira quell'essere fratelli quell'essere innamorati quell'essere traditori o traditi ma è proprio cerchi di catturare lo spirito del mondo non le vite delle persone cerchi di catturare l'umanità magari proprio come in una fotografia non Luca Gianni Francesca o Virginia sì perché ora si tende forse da sempre non so se adesso tirerò in mezzo i social si tende a raccontare a provare a portare se stessi proprio senza mettere una maschera anche gli artisti spesso ora parlano proprio della loro vita nuda e cruda e parlano di sé proprio io sono questo e faccio questo e questa è la mia vita quando magari un tempo l'artista magari saliva sul palco con trucco parrucco e scendeva dal palco io un po' credo in questa cosa che l'unico modo per conoscere la realtà è fingerla o quanto meno avere a che fare con la finzione quindi con dei segni dei racconti che di riflesso ti narrano del reale perché di per sé la realtà non si vuole far raccontare è difficile da acchiapparla l'unico modo che hai di farlo è cercare di trovare appunto dei retini che ti permettono di acchiappare parole strumenti segni proprio simboli che la acchiappiscono e puoi restituirli poi al mondo stiamo palleggiando con 30 secoli di filosofia occidentale raccontando cos'è la realtà cosa possiamo fare in realtà io non vado più in là dell'idea che ci sono delle storie che sentiamo magari per caso arrivando in un rifugio di montagna quell'unica sera da una persona che fa il tragitto dall'altra parte che non rivedremo realisticamente mai più e quelle storie ci colpiscono e come ci colpisce un quadro visto in un museo a Vienna o una ragazza incontrata per caso a Belgrado è quello che risveglie in noi un sentimento che darebbe l'idea a un musicista di scrivere musica a un artista visuale di dedicare o ispirarsi per fare qualcosa con le sue mani su qualche superficie a un narratore di narrare sì sì infatti hai detto cioè la figata è che non lo sai non c'è la ricetta cioè tu vai in giro e poi succede che un'idea ti inizia a battere in testa poi dopo ti svegli settimane di fila che questo è il tuo primo pensiero la mattina insieme a il caffè e è il tuo ultimo pensiero la sera oltre a la donna che amo sta bene le mie figlie stanno bene relax e poi ti sdrai e dici però aspetta com'è che continua quella storia domattina domattina parto con sta frase qua è proprio il tuo motivo personalmente per quanto mi riguarda è una ragione di vita cioè coincide l'urgenza il bisogno con il pensare che figata però anche se visto da fuori immagino che uno che sta davanti a un computer 12 ore al giorno non sia così figo da vedere tu stai viaggiando intanto in realtà nella testa c'hai paradiso inferno purgatorio gardaland l'lsd tutto e non hai mai avuto la necessità di forzarti è successo una volta io ho iniziato a pubblicare nel 94 a 20 anni non ancora compiuti insomma e per 10 anni sono andato avanti proprio perché per farti venire in mente una storia ci vuole poco per scriverla ci vuole un anno due a volte di più per cui come dire sono partito sulla scorta delle idee iniziali è durato 10 anni proprio nel 2004 la mia vita era appena cambiata avevo 30 anni ero appena diventato padre e avevo sempre i suoceri i genitori i parenti che ti guardano in modo diverso non sei più quella adorabile testa di minchia sei il padre di loro nipote non sei più innocente per niente esatto e devi scendere a compromessi cambiare macchina perché serve la macchina più grande eccetera eccetera cioè ti prende a un certo punto quel profumino di morte vicino alla tua più grande gioia cioè questa creatura è mia figlia la sollevo al cielo e dico benvenuta al mondo Chloe e questa gioia è enorme però parte una serie di telefonate dell'assicuratore ma adesso forse dovresti pensare a mettere via delle cose per il futuro cioè cavolo la cosa più bella del mondo è l'idea di affondare in una palude contemporaneamente com'è possibile e per la prima volta mi è capitato di pensare proprio in quel periodo che stavo scrivendo qualcosa solo perché avevo un contratto a me sta storia non piace per la prima volta è come se per la prima volta l'amico di cui ti fidi di più lo vedi che di nascosto sta mettendo le mani nelle tue cose o fotografa di nascosto il tuo album intimo e ti senti tradito da te stesso sostanzialmente e la risposta è stata staccare non posso andare avanti scrivendo una storia che non mi piace cosa racconto un domani a mia figlia cioè come mi guarda allo specchio già domattina e ho la fortuna di pubblicare ho la fortuna di scrivere lo vorrebbero fare in tanti devo difendere questo onore non sputtanare poi si dice fai una cosa che ti piace fare e non lavorerai un giorno in vita tua però potrebbe anche essere una dannazione nel momento in cui ti senti l'obbligo di fare una cosa che ti piaceva fare esatto perché è libera appunto perché penso che sia molto simile a essere chiusi in un rapporto in cui sei stato sinceramente innamorato però poi all'improvviso sfumai sei sicuro che non va più bene è un dolore portarla avanti è una fatica perché non riesci nemmeno ad essere onesto e dire oh l'amore ci ha abbandonato non è colpa mia non è colpa tua però dobbiamo guardare la realtà in faccia ho avuto il terrore di essere abbandonato dall'amore per la scrittura e l'unica soluzione logica che mi è venuta in mente è stata spegnere il computer mettere da parte gli appunti e partire con mio fratello zaino in spalla per realizzare un vecchio sogno andare a piedi dal terreno all'adriatico ed è iniziata lì ci penso sì e camminando piantando la tenda in luoghi improbabili gustando piatti maremani a orari bizzarri e tutto quello che accompagna un viaggio a piedi tipo la ricerca di una birra dopo dieci ore che sei in giro caldato l'ha detto anche il medico della nazionale italiana di calcio se l'ho detto lui è l'integratore salino ideale davvero la birra? sì beh basta non berne 24 ma cioè una o due e quindi questa è l'origine degli psicoatleti questa è stata l'origine della possibilità di raccontare viaggi a piedi cammini è stata l'origine degli psicoatleti che è la mia ballotta la mia squadra il mio gruppo di camminatori con i quali ripartirò peraltro proprio oggi per fare per l'ennesima volta un tratto di via francigena a Siena a Roma parti da Milano? sei entrato con uno zaino no 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 ha uno zaino che adesso è off camera ma sei entrato con uno zainone uno zaino da dieci giorni un altro Enrico Brizzi però con però soprattutto è stata la possibilità di capire che se stai facendo qualcosa che non ti piace devi darci un taglio e la figata massima di quel viaggio è stato che arrivando all'Adriatico oltre a avere grosse vesciche ai piedi e domandarmi perché non ho portato un costume da bagno visto che arriviamo al mare ho fatto il bagno in mutande e basta e la cosa principale è stata io quel libro che ho a casa che sto scrivendo e che non mi piace più lo butto via racconto un'altra storia e per la prima volta ho scritto di un cammino è stato un romanzo che poi è uscito l'anno dopo che si chiama Nessuno lo saprà che è proprio la storia di un tizio che a 30 anni è in crisi parte col fratello e attraversa l'Italia a piedi da una parte all'altra poi il vizio mi ha catturato e l'Italia l'ha attraversata a piedi anche dall'Alto Adige alla Sicilia o l'Europa dall'Inghilterra a Roma o Roma a Brindisi e poi quello è stato veramente da pazzi su un'imbarcazione autocostruita da un amico sai l'amico MacGyver che hanno tutti da ragazzi lui a Bologna costruito una barca meglio era di quelli che gli consegnavi la Vespa per fare una piccola riparazione faceva uno scherzo e te la saldava con un'altra Vespa e faceva tipo il risciò doppio eccetera e opera ancora queste meglio è diventato un professionista cioè è andato a lavorare per la marina militare e ha ripescato un relitto e l'ha rimesso in grado di navigare teniamo lo stile medioevo senza radio no motore così si fa il viaggio come nel 1200 Roma brindisi a piedi poi si sale e si parte a vela e si va solo a vela come una volta alla mia mamma non l'ho detto fino a quando siamo arrivati dall'altra parte sani e salvi ma molto emozionato epocale sì soprattutto quando stavamo per scuffiare nel canale d'Otranto ma insomma ti rendi conto che senza poter avvertire nessuno capito senza radio e la gente provava queste sensazioni ma non mi vestivate anche da medievali no quello no quindi hai deciso di vivere una vita che è un racconto una certa proprio cioè di vivere delle avventure degne ogni giorno che si passa di cammino è una vita veramente sono quei 24 25 chilometri non so quanti tu ne facci al giorno dipende dal terreno comunque si si è un tutto le cose che noti è bellissimo che davvero io ho fatto tre volte Bologna-Firenze non ho mai fatto camminando effettivamente quindi sono un po' più frenetico perché mi piace sperimentare mezzi nuovi l'ho fatto in skateboard o in bicicletta perché alla fine me la godo come se stessi andando a piedi ma vado un po' più veloce era anche una cosa che nessuno aveva mai fatto probabilmente la sensazione di essere il primo a farlo capito o uno dei pochi perché i cammini che stai facendo anche tu immagino che non li facciano una grande fetta della popolazione lo fanno in tanti ma sei parte di una percentuale comunque i cammini di 12 settimane non sono così comuni esatto il cammino di Santiago ho visto che lo fanno persone con il porta zaino partono da tre quarti di tappa è disseminato di luoghi in cui dormi in cui arrivi ci sono distese di zaini con l'etichetta tipo aereo perché molti camminano se lo fanno portare ovviamente se lo fanno portare dal furgo e poi dopo quando loro arrivano a fine tappa con solo il beauty il panino recuperano così la sera possono vestirsi eleganti a tipo mansia della smulas dove non c'è niente gli esploratori i coloni del 1800 per me è stata una figata il cammino di Santiago farlo partendo da Torino partendo dall'Italia ero arrivato a Torino con un viaggio a piedi dell'anno precedente dal Garda a Torino riparto da qua e altro periodo di crisi adesso sto parlando sembra che io sia sempre il periodo di crisi la crisi da quanto intendo è una tua grande musa come dice quel quadretto la felicità non fa racconto questo è vero cioè è vero anche che se ti piace scrivere suonare dipingere fare collage tutto diventa materiale cioè sia le grandi gioie che le mazzate che prendi dritte in faccia e mi ero appena lasciato con la mamma di mia figlia più più giovane quindi dico sono proprio una testa di cazzo cioè non ne faccio una dritta e il facciamo che solito metodo per curare i guai camminiamo camminiamo partito da Torino viaggio di anche lì dodici settimane passi le Alpi scendi in Provenza attraverso il delfinato e cammini cammini che ci sono in segnavia ma sono pochissimi che partono da così lontano quindi quando dici sto andando a Santiago da una parte dicono wow che figata dall'altro sei completamente fuori di testa no? e poi arrivi Varchi Pirenei e per la prima volta arrivando dal tuo sentiero semisolitario vedi questa autostrada di gente che cammina appena partita perché quasi tutti partono da da lì da Roncisvalle in sostanza Saint-Jean-Pied-et-Port l'ultimo paese francese per arrivare al pass ma una coda tipo casello di Rimini Sud a Ferragosti impressionante come per l'Everest al momento esatto ma la figata è che la fila tutti in crisi perché quasi tutti hanno lo zaino nuovo gli scarponcini con l'etichetta ancora attaccata per cui ho beccato anche dei neozelandesi di 80 anni allenatissimi che non hanno fatto una piega dormivano sui prati eccetera ma la grande maggioranza sono 20-40 anni che dicono voglio fare il cammino di Santiago e tu gli chiedi ma hai mai fatto il cammino diciamo del giro dell'isolato intorno a casa tua no io voglio fare il cammino di Santiago e il secondo giorno la fila è già più rada il terzo dici cavolo ma dove sono finiti tutti poi inizia a parlare con le persone perché molti vanno ai due all'ora vinti dalle sofferenze la parola che senti più spesso è tendinitis emorroidis e poi il pomeriggio non cammina quasi nessuno cioè tutti la mattina poi gara per arrivare all'ostello all'una perché si riempiono effettivamente magari non c'è posto negli ostelli io l'ho fatto diciamo fuori dalla stagione estiva più pronunciata però mi hanno detto che tipo in agosto la gente si accoltella per prendere la brande ma pensa che magari stai superando una crisi dici ok faccio un cammino me la faccio un po' passare rifletto eccetera e molli il cammino dopo tre giorni non hai scampo dalla crisi almeno passi da una crisi all'altra ma molto banalmente un sacco di gente lo fa per conoscere qualcuno qualcuno per cui si formano un sacco di coppie e conosco varie persone che poi si sono rimaste insieme dopo essersi conosciuto a Santiago una specie di c'è altro che Meters e beh sì Grindr eccetera questo è un approccio laico che però fa suo una roba cristiana non solo credo le maggiori religioni del mondo abbiano fatto i cammini certo lo stesso cammino di Santiago l'arrivo a Finistere lo facevano già i gallici e il Tiberi gli abitanti della Galizia prima che fosse noto il messaggio cristiano perché per loro era appunto la fine del mondo quindi andavano lì e bruciavano gli abiti per cominciare una vita nuova c'è lo stesso rituale che fanno oggi i pellegrini quindi rimangono parte di questi queste remini scienze dell'origine religiosa mistica dei cammini chissà quanti sì poi c'è chi se la vive in maniera più ma molto colpito in questo senso arrivare a piedi a Gerusalemme ero con ragazzi da cristiano praticante all'ateo scientifico tipo è impossibile che eccetera la cosa bella è che ognuno con la sua sensibilità comunque attraversi dei luoghi da cui vengono storie molto antiche e molto potenti minimo che si possa dire al di là del fatto che uno creda non creda sia ebreo cristiano islamico qualunque altra cosa e ti rendi conto che queste pietre sono tutte insanguinate cioè quella terra la vogliono tutti a tutti i costi e in poche parole capisci che è un po' troppo da simplex pensare questi hanno ragione questi altri hanno torto perché non ci sono due squadre quello che capisci è che che tu nasca ebreo islamico coppia mista cristiano quello che ti pare i pacifisti li pigliano mazzate e gli estremisti hanno il loro vantaggio a tenere la tensione alta per cui chi ha ragione o chi ha torto per quanto mi riguarda ha ragione chi preferisce la pace alla guerra banalmente quanto sei stato lì a Gerusalemme una volta che sei arrivato noi siamo sbarcati a Acco l'antica San Giovanni d'Acri dove si sbarcava dall'Europa che è la città più a nord oggi di Israele vicino al confine con Libano poi c'è questo sentiero che si chiama Israel National Trail che sta sostanzialmente su dune parallele alla costa scendendo verso sud fino a Tel Aviv e poi cinque giorni mi pare e altri tre invece andando nell'interno verso le biancherupi di Giudea entri nel deserto sostanzialmente e in tre giorni arrivi a Gerusalemme e il percorso è da dove cioè come fai che percorso è è l'antica via dei pellegrini che partivano dall'Italia si imbarcavano in Puglia noi l'abbiamo fatto appunto in quella maniera un po' autogestita tipicamente le tappe di scali marittimi erano Grecia continentale Rodi Cipro e poi sbarcavi a San Giovanni d'Acri e ricominciavi a camminare assurdo quanto è durato il viaggio? un mese a piedi da Roma a Brindisi prendendo la larga facendo il giro dal parco d'Abruzzo per stare il più possibile in mezzo al verde e dieci dodici giorni in barca e otto a piedi di là in Terra Santa un mese a piedi cioè è come è come essere homeless proprio la figata è che ti metti i panni più che homeless hobo che sono quelli che giravano però si facevano sono quelli classici che facevano le incisioni sulle monete americane il quarto di dollar ah sì 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 una roba da altri tempi veramente peraltro il primo tatuaggio del mondo occidentale veniva praticato proprio da monaci armeni con attrezzi da calzolai fuori dal santo sepolcro a Gerusalemme e la croce di Gerusalemme veniva fatta come segno che c'eri arrivato ah fichissimo dopo che diciamo erano già noti nell'antichità premedio evo i tatuaggi ovviamente però nel nostro nella cultura occidentale sono tornati come segni di pellegrinaggio eseguito la cosa bella del viaggiare a piedi è che lo straniero sei tu quello mi ha sempre esaltato proprio io vengo da una famiglia per molti versi ordinaria ma in questo senso molto italiano ordinario anche se ci siamo scordati di che cosa significasse essere emigranti per lavoro cioè mio nonno il padre di mio nonno di lavoro hanno costruito le ferrovie nel Missouri partivano a 20 anni tornavano a 50 col gruzzolo per comprarsi casa assurdo e quando ero bambino famiglia molto numerosa cioè mio padre sono sette fratelli mia madre sei quindi sono cresciuti in mezzo a una tribù di cugini al tavolo a casa della nonna si mangiava in 12 16 cioè eravamo in tanti e praticamente tutti gli uomini lavoravano fuori quando dico fuori tipo c'era quello che costruiva i ponti in Senegal quello che faceva il medico in Etiopia quello che lavorava sui transatlantici per cui nella mia testa era fatale normale l'idea che Bologna è il posto dove si sta da piccoli e dove si torna perché ci sono i tuoi ma la tua vita è in giro e la cosa bella del farlo con uno zaino in spalle è che tu ti presenti chiaro che se lo fai in Alto Adige o a Cervinia o dove ci sono sentieri nessuno si stupisce ma prova a arrivare a Montemiletto in provincia ad Avellino sudato fradice con lo zaino la borraccia vuota non trovi il sentiero i nonnini e le plazza del paese con tutta la ballotta paesana che ti guarda ostili ti avvicini all'unico bar come stai arrivando vram ti lanci la saracinesca e tu dici ma come are you english ti chiedono ma che english no no siamo italiani ma cosa state facendo stiamo andando in Sicilia a piedi ah iniziano a ritirare sulla saracinesca ma volete qualcosa da mangiare eccetera gli racconti la tua storia cioè diventi l'eroe di Montemiletto alla fine non riuscivano più ad andare via perché litigavano per ospitarci a pranzo a casa si non erano ancora storie su di voi magari di generazioni in generazione i più giovani sostengono che i vecchi boomers se la sono sognata sta storia è una leggenda non è vera invece i ragazzi di Montemiletto è vero accadde nel 2010 infatti è proprio il bello di muoversi con la diciamo prepulsione umana invece che a 300 km orari col treno e che proprio vedi tutto ciò che superi con un batter d'occhio in macchina infatti odio i viaggi istantanei perché ti perdi veramente intanto la percezione delle distanze cioè quando vai da un paesino all'altro che sono 20 km ci vuole un giorno intero ti accorgi della casina e ti fai fare il panino dalla signora c'è la la sorgentina e l'animale il viaggio diventa la meta esatto è una sensazione che ho provato fortissima al primo viaggio a piedi che ho fatto sono partito a Bologna con un amico dicendo andiamo al mare a piedi mare per i bolognesi è l'adriatico è fare il weekend o il periodo Rimini Cervi a Milano Marittima andiamo a piedi cioè invece di farci tre ore di coda in macchina o un'ora andando a tavoletta vediamo quanto ci mettiamo con la tenda siamo partiti la prima sera dormivamo che si vedeva ancora a Bologna e dico non arriveremo mai più arrivati a San Lazzaro eravamo tra Casteldebritti Monterenzio cioè non più in là e seconda sera ancora si parla di aletto bolognese cioè non è ancora cominciata l'area culturale quando è che arriva Romagnolo terzo giorno eravamo dalle parti di Brisighella sopra Faenza iniziano i doni un contadino ci porta un cesto di ciliegie boccia di vino potete dormire qua bellissimo e ti rendi conto che veramente il territorio che sei abituato a attraversare a Freccia in realtà è esteso è pieno di pieghe è pieno di vita persone vivono quei luoghi che si attraversano con la macchina esatto arriviamo a farci il nostro bagno finale per una volta invece di metterci una due due ore e mezzo ci abbiamo messo cinque giorni e poi siamo tornati però con i mezzi perché dovevamo tornare alle nostre cose e quello che ho pensato durante il viaggio di ritorno vedevo passare dal finestrino del treno le colline che avevamo risalita una a una lì è dove abbiamo chiacchierato di quella cosa lì è dove il contadino ci ha portato le ciliegie e ti rendi conto che rifare il viaggio all'indietro in poco più di un'ora è una truffa io voglio vivere solo di sola andata non lo voglio fare il ritorno non so come dirti Bologna la via degli dei fa ridere il ritorno andata a piedi sono quattro giorni il ritorno sono trenta minuti ci si gioca ci si gioca in questo modo vabbè che forse non tanti hanno nella voglia nella possibilità nel tempo di fare tutto ciò questo è un grande alibi però perché poi il tempo di andare una settimana a sdraiarsi a sdraiati bestemmiando perché non trovi parcheggio quello ce l'hai il raggiungimento poi che non è la soddisfazione più grande però cazzo ti guardi indietro e vedi le montagne che hai superato dici madonna questo è fighissimo come è fighissimo rendersi conto che che sei solo un altro essere umano come loro cioè come tutti quelli che hai incontrato non sei cioè se ami viaggiare io dico a piedi perché mi piace ma mi piace anche girare in bici insomma viaggiare in maniera umana non puoi pensare di te né che sei il peggior figlio di troia del mondo né un fottuto genio cioè sei un uomo e il mondo è pieno di uomini e donne che con poche eccezioni sono tutti degni di essere rispettati e ascoltati hanno tutti storie da raccontare certo e spesso te le raccontano più facilmente a te che sei arrivato come il vento quel giorno e poi sparisci che al bar del paese dove stanno tutti i giorni sì sì vieni a dare una ventativa cioè lo straniero lo straniero rompe i codici e abbassa anche la soglia del pudore sì perché tanto non ti rivedono più sei proprio un infatti immagino il custode di segreti quando vai a Gerusalemme e dici che vai a Gerusalemme le persone ti dicono di una preghiera per mio marito di porta per favore questo fiore a Gerusalemme tu dici ma il fiore la passerà entro due ore però se a questa persona fa bene pensarlo lo metto intanto nello zaino e le dico che lo faccio è bello è bello ti senti cioè per i greci angelos angelo voleva dire messaggero ecco senza pensare alle ali di porporina dorata degli angeli del presepe però ti senti che per altre persone assumi questo ruolo cioè che che quindi sei prezioso per loro porti messaggi di qua e di là è fico e ti credi in Dio sì sì infatti avrai vissuto cioè di cui cammini li hai vissuti magari anche più intensamente quindi cioè ho enormi problemi a credere nella mediazione con Dio però mi piace pensare che rivedrò le persone care che sono scomparse e avere speranza è gratis per cui banalmente perché perché privarsi di questo tanto Dio io penso che se esiste è come il monte bianco cioè tu ci cammini intorno ma sei tu che guardi lui non è lui che guarda te non ti fa camminare lui e Dio non fa miracoli nelle nostre vite perché se no salverebbe tanti poveretti ma non ci manda nemmeno le sfighe cioè se c'è la sua grandezza sta nella sua indifferenza poi magari lo conosceremo un'altra volta sotto altre forme in un'altra vita non lo so però ognuno gli dà il nome che vuole effettivamente cioè adorarlo o bestemmiarlo a lui non fa nessuna differenza secondo me se no non è Dio è il mio amministratore di condominio chi aveva detto il mio Dio è GP GP diceva che il mio Dio ha un'autostima sufficiente perché io lo possa bestemmiare senza che lui si offenda quello più o meno il principio penso che non ci ascolti neanche perché se no dovrebbe ascoltare le preghiere di persone disperate sì sì ma può anche darsi che sia semplicemente il suo stesso creato quindi non è più un ente unico ma è tutto ciò che è sono tante le idee che si nascondono dietro la parola Dio però non ho idea ovviamente se sia un affascinante gentleman di 55 anni esperto di vini con la barba sale e pepe ossia qualcosa che aleggia in maniera molto immateriale non antropica diciamo antropizzata antropomorfa però c'è qualcosa che ci tiene tutti insieme e questo chiamalo Dio chiamalo umanità chiamalo good vibes è qualcosa che secondo me vale la pena di che ci spinga verso il bene verso il bene vuol dire rispettare gli altri e non non fare di stronzi anche perché non costa niente poi metti caso che c'è e non ci hai creduto dopo finisci all'inferno tanto vale sì sì poi tutti hanno bisogno di credere in qualcosa effettivamente se non è Dio alla fine trovi un qualche sostituto quando ti rivolgi anche solo all'alieno che ha creato la simulazione della teoria di essere invece che il creazionismo anzi sì un creazionismo ma da un computer il fatto che magari è tutto inventato siamo portati ad attribuire senso alle cose anche quando del senso non ce n'è di fronte a dei grossi enigmi quale appunto il senso della vita eccetera eccetera Dio mette una bella pezza sì 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 ragazzi cos'è la realtà Dio il senso della vita non lo so i viaggi po' di figa infatti io ho provato a trattenermi mi sto trattenendo tanto da dire che sei bolognese penso si sia capito l'abbiamo detto ho fatto un salto a Bologna a piedi volendo ci si arriva a piedi da varie parti o anche passeggiare all'interno della città ecco questo è un esercizio che mi è venuto in mente che sarebbe divertente far fare alle persone se volete farlo io l'ho fatto camminare tutte le vie della propria città per conoscerla meglio per farvi i vostri anche 50 chilometri buoni il centro della vostra città che sia Milano Milano ci vogliono dei giorni immagino però intanto stai facendo un cammino infinito ci sono tutti i servizi del mondo ti vedi tutta la città capisci capisci tutto mi è successo ho mappato la città di Bologna passeggiando in tutte le vie e contavo le vie la lunghezza coi passi ma un lavoro incredibile grazie è la cosiddetta psicogeografia sì l'hanno iniziata a teorizzare negli anni 60 a Parigi e avevamo fatto delle mappe ricostruendo quali vie sono più battute e venivano diciamo sulla mappa di Parigi sottolineate più e più volte a seconda di quante erano battute semplicemente si erano resi conto parliamo degli stessi sperimentatori da cui poi nasce il situazionismo ah certo cioè la città è grande così ma sostanzialmente le persone camminano tutte negli stessi posti e ovviamente va da sé che appena sono stato ragazzino a Parigi ho voluto provare anch'io a fare il giro di tutte le vie quanto servirà per attraversare Parigi a piedi senza prenderla a metro e parti all'alba da una parte arrivi la sera dall'altra ma ti rendi conto che hai fatto solo una diagonale per cui ci puoi passare la vita in questo modo ed è no no sì l'altro giorno ho beccato un americano a Bologna che non parlava ancora italiano era qui da cinque anni gli americani hanno qualcosa con non so se non riescano spesso adesso non voglio offendere nessuno dei nostri ascoltatori italo-americani o americani qua anche gli italiani hanno qualcosa con l'inglese insomma sì ma sembra che l'americano faccia fatica a immergersi al cento per cento nella cultura italiana non lo so questa è una mia piccola mi prendono tutte le responsabilità il fatto è che parliamo sempre dell'italiano e dell'inglese come se questa idea di nazione fosse incarnata in una persona quando in realtà io vedo molti cani sciolti che scivolano attraverso la vita e riescono ad andare oltre lo stereotipo che dovrebbe essere la loro cosa quindi l'americano che ti parla in toscano magari capito ma noi siamo i migliori costumisti il costumista è una figura del teatro non c'è cazzo io sono il costumista di me stesso esatto camaleonti ci facciamo gli italiani siamo capaci di immergerci da dio ovunque secondo me a volte con un accento pessimo però diciamo che siamo storicamente abituati ad andare in giro per necessità per esplorazione per volontà di potenza americani sai dipende se uno sta a new york city ha l'idea di essere il mondo che va da te in un punto che è in contatto con tutto il resto del mondo stai in mezzo all'iowa campo di patate non hai grandi prospettive infatti qual è il posto che ti è che ti è piaciuto di più oltre l'italia nel mondo il più sorprendente il madagascar perché ti rendi conto che è un posto che è tecnicamente in africa ma essendo un'isola è staccato dal continente ed è abitato da 14 etnie diverse la principale non hanno niente nei tratti né nella lingua dei popoli africani vicini perché sono arrivati in piroga dall'indonesia cioè gente che ha attraversato tutto l'oceano indiano in un'epoca mitica e poi ci sono e c'è un mix totale di tutti i popoli che navigavano l'oceano indiano per cui arabi indiani e in generale insomma i posti con tante etnie e scenari naturali diversissimi come lì cioè i lemuri più grandi l'indri indri sono alti più di un metro vivono lemuri alti più di un metro ce ne sono tante specie diverse dallo scoiattolo lemuri scoiattolo che è grande così all'indri indri che se ti casca in testa da un albero cioè ti secca e hanno una caratteristica fantastica che non si lasciano catturare cioè se in cattività si lascia morire di fame bravo resistenza grande dignità e allo stesso tempo hanno la virtù di saper imitare perfettamente la sirena di fine turno delle fabbriche cioè tu ti svegli alle 6 di mattina che senti nella foresta con la nebbia che si alza tipo fortissima cazzo c'è un elefante in stanza ma non la imitano perché l'han sentita proprio il loro verso il loro richiamo del mattino come dire bella regazza vanno tutti in fabbrica i lemuri esatto sono dei piccoli lemuri che vanno in questa fabbrica quelli grandi producono quelli piccoli poi ci sono quelli resi famosi dai cartoni animati tipo con la coda ad anelli bianchi e neri che effettivamente camminano in orizzontale cioè saltano che carini che sono il posto più figolo del mondo il Madagascar l'unica pecca da parte nostra più che altro è che abbiamo esportato una prelibatezza locale che è lo scarrafone mi pare credo che lo scarrafaggio abbia origine in Madagascar e da lì si è diffuso in tutto il mondo per via dei commerci insomma amici malgasci si prende la responsabilità Martino di questa affermazione non lo so io fonte io fonte ha tutte le mole cose e se potessi viverci ci vivresti in Madagascar ci ho provato ma la mia compagna mi ha mandato a quel paese e in effetti ero ero più giovane non avevamo bambini io di mio ci vivrei però onestamente non è un posto in cui crescerei dei bambini meno servizi di qua diciamo un po' meno welfare un po' meno welfare vabbè sì ma niente e cosa ci puoi dire del tuo nuovo libro che ti ringrazio di aver portato questa è una piccola parte da il piccolo stacchetto promozionale ma oggettivamente è un romanzo molto fico mi piace mi piace è bello straight to two point no è la storia di un uomo che si trova in un momento in cui si incrociano due difficoltà una la separazione dalla madre dei suoi figli l'altra va in crisi con il fratello che è pure il suo datore di lavoro è un uomo nato e cresciuto a Bologna che si è trasferito a Milano e quindi è un romanzo che ha a che fare anche con cos'è la provincia cos'è la metropoli cosa succede nel posto dove i sogni si possono realizzare quando le cose vanno di merda questo vuol dire che siamo nel posto a Milano non lo so è vero scrive l'editoria a sede in buona parte qui è vero spettacolo eccoci qua siamo a Milano sempre a Bolognesi qua in questo momento qualcosa vorrà dire siamo venuti con le valigie di cartone a cercare fortuna qua a Milano muovendoci su delle zattere lunghi canali fino a che non abbiamo trovato i fiumi principali esatto no a parte tutto la cosa figa dell'Italia è che stiamo parlando di un'ora di treno due ore di treno cioè non è che stai negli Stati Uniti da un lato il campanilismo fa sorridere e arricchisce anche come dire la scena però non possiamo prendere sul serio il fatto ma tu dove stai a Rimini Nord o Rimini Sud cioè dai fa ridere proprio anche i prezzi delle case che ci abituiamo soprattutto per Bologna che se abiti a 300 metri da una casa all'altra il prezzo cambia di migliaia e migliaia di euro solo perché dentro porta e fuori porta a me il campanilismo mi piace quando dà colore capito quando vedi uno che ci crede tantissimo di essere proprio il luogo dove vive sì 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 è simpatico però poi quando vedi le ripercussioni il mondo reale è mentale è problematico comunque dai in breve è la storia di un uomo che cade fa cose che non ha mai valutato di fare perché si trovi in difficoltà perché se devi fare un regalo ai tuoi figli per Natale il banco non cacca un euro fai cose che normalmente non faresti è un uomo che pensa di essere abbandonato per sempre dall'amore dalla fortuna che pensa che Dio ce l'abbia con lui si sente tipo Giobbe e ha un po' più difficoltà come molti di noi a rendersi conto che alcuni dei suoi problemi vengono da suoi atti una storia di una caduta a precipizie un autunno di caduta un inverno gelido in cui diventa abbastanza hardcore la sua situazione e una primavera perfetta che dà il nome al libro in cui attraversata arrivato in fondo alla sua odissea è possibile una una nascita una selvezza grazie mille di averlo portato è stato un piacere grazie anche di essere venuto qui faccio la chiusa nel senso ti ringrazio questo era Enrico Brizzi da Muschio Selvaggio Milano studi Duomo grazie ancora Enrico ci vediamo poi a Bologna grazie Luis grazie Martin grazie a voi grazie mille